Maicolo oggi esordio con la maglia dell'Aquila in campionato ed è stato un esordio positivo probabilmente insomma si è stato impeccabile in quasi tutti gli interventi, in quasi tutte le azioni dove si è intervenuto Sì, grande soddisfazione personale oltre che di squadra è stato sì l'esordio dal primo minuto in campionato e sono felice, sono felice di questo sia a livello personale che a livello di squadra per il risultato e quindi con la speranza di continuare a fare bene e che i risultati saranno ancora questi insomma Il tuo arrivo Michael, l'abbiamo già detto anche durante la tua presentazione, ha praticamente messo d'accordo tutti quanti perché qui all'Aquila tanti erano coloro che pensavano che c'era bisogno di un portiere over e evidentemente oggi si è visto che puoi dare una grossa mano tra i pali Io penso che la cosa più importante sia la collaborazione tra i tre portieri che abbiamo in squadra e quello era l'intento iniziale e penso che questo si stia facendo nel senso noi abbiamo anche due portieri fuori quota che sono forti se magari serviva un portiere over sono contento insomma che possiamo conciliare sia le prestazioni personali con quello della crescita dei ragazzi come ho detto precedentemente quindi ripeto di essere contento sia della prestazione che della gestione insomma di tutto quello che è stato fatto fino adesso Sinopoli e Ranalletta, Michael, possono essere due giocatori importanti per il futuro dell'Aquila secondo te? Sinopoli e Ranalletta sono due ragazzi importanti sia per il presente che sicuramente per il futuro dell'Aquila Calcio Ecco, abbiamo visto giocare molto fuori dall'aria, guidare la difesa con buona personalità insomma è quello che il mister ti ha chiesto per questo partito? Senz'altro, il mister chiede questo, il mister ha un'idea ben precisa di gioco e noi negli allenamenti cerchiamo di migliorare questo tipo di situazioni di gioco sono contento di essere stato utile a questa situazione, a questa causa quindi ripeto, contento sì ma speriamo di continuare su questa strada perché insomma non è ancora finita Quali sono secondo te, Michael, le insidie che potrebbero esserci nel corso del campionato da qui in avanti? Beh, l'insidia secondo me potrebbe essere quella di sottovalutare magari adesso il futuro del campionato perché magari pensiamo di essere primi e invece no, dobbiamo continuare a martellare, ad allenarci bene perché insomma ogni partita è difficile, anche oggi nonostante il risultato abbiamo incontrato una squadra tosta una squadra organizzata e non è sempre facile, bisogna sempre dimostrare di essere magari in questo momento migliore degli altri e quindi ecco la difficoltà potrebbe essere questa che magari possiamo abbassare un pochettino la concentrazione e perdere un po' di sicurezza questo non deve accadere Una cosa già che bisogna fare a partire dalla gara di Fonte dell'Olmo contro la Rosetana che gara sarà secondo te? Sicuramente è una gara difficile proprio per queste cose che abbiamo detto perché dovunque andremo sicuramente le squadre cercheranno di metterci in difficoltà come è giusto che sia, il campo probabilmente non sarà neanche dei migliori perché insomma il campo nostro penso che sia il migliore della categoria e non solo quindi ci sono delle insidie ovviamente legate al campo, legate all'avversario, legate a tante cose ma se restiamo ovviamente concentrati e continuiamo così penso che l'obiettivo possa essere raggiunto